E allora, Olimpiadi o Olimpuglia, un bel rebus da risolvere, ne parliamo con Giacomo Leone, numero uno della FIDAL regionale, giornata di festa, anzi giornate di festa per l'Atletica Leggera Nazionale e Pugliese. Buonasera, ben ritrovato Presidente intanto. Buonasera a tutti voi. Ci racconta un po' come sono state queste ultime 24 ore, anzi ormai 30 ore speciali. Guardi, sono state eccezionali perché hanno dimostrato ancora una volta il valore degli uomini e delle donne di Puglia. Una terra sì avara di strutture e di risorse dedicate allo sport, ma nello stesso tempo capace di creare quei tecnici e quegli atleti che poi riescono a conquistare delle medaglie incredibili, in questo caso due medaglie d'oro nelle specialità della marcia, in modo particolare nell'Atletica Leggera e poi quella splendida medaglia d'oro nel tag and do dell'Aquila. Quindi grande merito agli atleti, agli allenatori e ai dirigenti di Puglia. Presidente, ha avuto modo di sentire Stano e Palmisano dopo i loro trionfi? Sì, ho avuto modo di scambiarmi dei messaggi Whatsapp con Massimo Stano, gli ho detto che era riuscito a farmi commuovere ed ero orgoglioso di aver trasmesso questi sentimenti e queste emozioni a me ma a tutti coloro che hanno sempre creduto in lui. Se vi ricordate lo scorso gennaio, durante la presentazione della mia candidatura nel vostro studio, io parlavo di tre atleti che potevano andare all'Olimpiade, due certi, Palmisano e Stano, ed il terzo era fortunato. Ci ho azzeccato tutte e tre, ma soprattutto continuavo a ripetere che era l'Olimpiade di Antonella Palmisano e che Massimo Stano sarebbe potuto essere la grande sorpresa di questi giochi. Ci ha colpito molto, Presidente, l'amicizia tra questi atleti, il filmato che vedevamo nel servizio, la Palmisano e la pattuglia di colleghi che attendevano ieri Stano in hotel. Poi festa contraccambiata, l'abbiamo visto anche attraverso i social, dallo stesso Stano è sicuramente uno dei segreti di questa Puglia così protagonista alle Olimpiadi, ovviamente sotto il vessillo azzurro. Guardi, da atleta si passano mesi e mesi insieme in giro per il mondo, in giro per l'Italia, a condividere tristezza, delusione, ma momenti di gioia. Quindi qui ancora di più una testimonianza che l'atletica, e me lo consentono gli altri, è la regina di tutti gli sport. L'atletica viene disputata nell'ultima settimana dei giochi olimpici proprio a tributarle quell'onore. I giochi olimpici sono nati con l'atletica leggera, i giochi olimpici continuano a concludere con l'atletica leggera. Le testimonianze di amicizia fraterne, abbiamo visto il dividere il primo podio tra Bashim e Tamberi, non ha uguali nessun'altra disciplina sportiva. Ricordiamo che il calcio, tanto famoso, comunque vuole un vincitore anche con la lotteria dei rigori. Assolutamente Italia regina dell'atletica leggera in queste Olimpiadi, soddisfazioni straordinarie. L'ultima battuta, Presidente, gliela riservo sulle strutture. Lei l'ha detto in apertura, una terra non con tante strutture che produce tanti talenti. Quali sono i prossimi passi invece per le strutture? Perché ricordo che proprio nella nostra ultima chiacchierata si parlò anche degli investimenti che stavano per maturare. Allora, guardi, io oggi ho avuto modo di dirlo a tanti suoi colleghi. Il fenomeno marcia pugliese nasce dieci anni fa grazie a un trofeo inventato dall'allora Presidente Angelo Giliberto, attualmente numero uno del Cone Pugliese. La Puglia è diventata una terra di marciatori e di maratoneti. Perché? Perché non c'erano i famosi contenitori, le strutture per poter far disputare altre specialità dell'atletica leggera in sicurezza ai nostri atleti. Adesso, nell'ultimo anno, come ben sapete, ci sono quattro impianti di atletica leggera. Un altro si sta completando a Taranto, altre due stanno per iniziare i lavori a Grottaglia, a Doria. Un altro inizia tra brevi lavori a Modugno. Quindi diventeranno otto impianti di atletica leggera. E poi mi auguro nei prossimi due anni di stimolare ancora di più le amministrazioni comunali perché investono nell'atletica, anche grazie a questi risultati. Adesso investiremo pesantemente sulle discipline all'interno dell'atletica leggera, all'interno delle piste. E sono sicuro che ancora una volta la Puglia saprà dimostrare tutto il suo valore. E c'è davvero da leccarsi i baffi in vista di quello che potrebbero combinare gli atleti pugliesi, nel senso positivo del termine. In futuro, grazie al presidente Fidal Puglia, Giacomo Leone. Voglio aggiungerle solo una cosa. Prima o poi la farò la statistica. Ma sono decine gli atleti che una volta diventati un po' più grandi con la fine degli studi sono transitati nei gruppi sportivi. Quindi hanno vinto medaglie attraverso la maglia del gruppo sportivo. Stano è poliziotto come me, Antonella è un finanziere della Guardia di Finanza. Però se riuscissimo a trovare dei fondi per tenerli nella nostra terra, alla fine sarebbe una medaglia pugliese al mille per mille. Questo lo aggiungiamo all'elenco dei buoni propositi. Grazie davvero, presidente Leone. Grazie a voi. Grazie a voi.